Ecco, un'altra cosa che usavano per attaccarci in queste settimane era il Presidente della Repubblica. Lasciatemi dire qualcosa anche in merito a questo, no? È il Presidente della Repubblica, è il garante e quindi ha deciso così, tutto va bene così. Ecco, a me questo Presidente della Repubblica posso dire che mi fa schifo? Mi fa schifo! Come? Come? Un Presidente che se ne frega del 34% dei voti degli italiani del partito più forte d'Europa, è un Presidente che mi fa schifo! Ovviamente non c'è stato solo questo Presidente della Repubblica, vero? C'è qualcuno che dice, beh ma c'è stato Pertini, sì quello che è andato a baciare la barra di Tito che ha fatto buttare le foibe gli italiani. Altro! Faccia l'anima sua che è morto, ma lasciamo perdere! Quindi speriamo che il futuro del Presidente della Repubblica finalmente sia qualcuno che veramente rappresenta i cittadini italiani e sia veramente eletto dai cittadini italiani. Grazie! Grazie!